Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Statistica. Il metodo più semplice per elaborare un insieme di dati statistici è quello di rappresentarli graficamente. In questo modo avremo una rappresentazione facilmente leggibile ed interpretabile. Vedremo diversi tipi di grafici. Gli ortogrammi e diagrammi a blocchi, i diagrammi cartesiani, gli istogrammi, gli aerogrammi, i cartogrammi e gli ideogrammi. Iniziamo con la prima tipologia. Supponiamo di voler rappresentare il personale di una determinata azienda che è costituita da due dirigenti, cinque funzionari, dodici impiegati e ventuno operai. Vediamo che per ogni modalità della serie c'è un rettangolo, sopra il quale è indicata la frequenza assoluta. Ci sono due dirigenti, cinque funzionari, dodici impiegati e ventuno operai. Sull'asse orizzontale sono indicate le modalità e i rettangoli hanno tutti la stessa base. Sull'asse verticale invece indichiamo le frequenze e ogni rettangolo ha un'altezza proporzionale alla frequenza della modalità corrispondente. Nella figura di destra abbiamo lo stesso insieme di dati ma questa volta, come vedete, i rettangoli sono indicati in orizzontale e in genere questo tipo di rappresentazione viene detta diagramma a blocchi. Caratteristica? In pratica scambiamo gli assi. Sull'asse verticale abbiamo le modalità e sull'asse orizzontale abbiamo le frequenze. Questi grafici io li ho ottenuti con un foglio di calcolo, come ad esempio Excel, ma si possono utilizzare anche fogli di calcolo gratuiti. I diagrammi cartesiani ricordano quello che succede normalmente in matematica. Abbiamo un'asse delle ascisse, un'asse delle ordinate e riportiamo i dati. Vogliamo rappresentare graficamente, mediante un diagramma cartesiano, la distribuzione di frequenza relativa al numero di individui di sesso maschile nelle famiglie italiane. Quando si vedono delle rappresentazioni grafiche in genere lo si fa per evitare di mostrare una tabella, per non andare a lavorare sulla tabella ma per avere una visualizzazione più immediata del fenomeno. Quindi qui vediamo che il numero di famiglie con 0 individui di sesso maschile è pari a 50, il numero di famiglie con un individuo di sesso maschile si posiziona qui intorno a 120, con due elementi andiamo a 300 e così via. Si può naturalmente utilizzare una scala diversa per rappresentare meglio tutti i valori. In alternativa utilizziamo proprio i valori sul grafico come nella figura di destra. Con dati di tipo discreto utilizziamo normalmente i diagrammi cartesiani ma per dati quantitativi di tipo continuo si usa in genere un istogramma in quanto in genere i dati di tipo continuo vengono suddivisi in classi. qui vediamo una tabella nella quale viene rappresentato il fatturato di un certo numero di imprese artigiane. Abbiamo delle classi di fatturato in euro e abbiamo le frequenze assolute del numero di imprese. Abbiamo 50 imprese e andiamo a costruire l'istogramma. Ed ecco l'istogramma relativo qui rappresentato a colori dove ogni classe è rappresentata con un colore diverso. Qui c'è la leggenda. Qui sono indicate anche le frequenze. Questi rettangoli affiancati hanno aree che sono proporzionali alle frequenze delle classi corrispondenti. Basta fare base per altezza. Essendo dei rettangoli anche se qui sono rappresentati in questo modo come dei parallelepipedi comunque normalmente sono dei rettangoli e qui abbiamo base per altezza. Ecco rappresentato lo stesso grafico con dei veri e propri rettangoli. L'aerogramma o diagramma a torta è un grafico che si presenta come un cerchio diviso in settori circolari. In questo esempio abbiamo dei gestori di telefonia mobile. Non ho indicato dei nomi chiaramente ma semplicemente A, B, C, D e la frequenza percentuale. Evidente come la più ampia fetta di mercato, d'altra parte si chiama anche diagramma a torta, sia rappresentata da quella parte arancione, cioè questa, che è relativa al gestore B, mentre il gestore D ha la fetta più piccola che è questa. Come facciamo a determinare l'ampiezza degli spicchi? Abbiamo un cerchio. Questo è un angolo giro di 360 gradi. Per determinare l'ampiezza in gradi dei vari spicchi noi faremo questa operazione. L'ampiezza del settore che vogliamo rappresentare sta a 360 gradi come la frequenza percentuale o frequenza relativa in generale che è qui indicata sta a 100. Se ad esempio prendiamo la fetta di 34% del gestore A, avremo che l'angolo sarà dato da 360 per 34 diviso 100. Arrotondato al grado abbiamo 123 gradi. In effetti questo è un angolo di 90, questo è circa 120 gradi. Chiudiamo con i cartogrammi e gli ideogrammi? I cartogrammi sono in generale delle carte geografiche. Sono suddivise, in questo caso abbiamo la rappresentazione della popolazione delle regioni italiane al 2011, abbiamo una leggenda che ci dice quali sono le classi e i colori che rappresentano appunto queste diverse classi. Quindi si fa vedere che la classe con meno abitanti, che è quella gialla, è rappresentata qui in Valle d'Aosta, in Umbria, in Molise, in Basilicata, mentre la classe più numerosa, che è quella in Arancione, con più di 5 milioni di abitanti, è qui rappresentata dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Campania e dalla Sicilia. È un modo molto rappresentativo perché noi subito, di fronte a questa cartina, riusciamo a identificare facilmente quali sono le regioni con più abitanti o meno abitanti. L'ideogramma utilizza immagini che richiamano l'oggetto dell'indagine statistica. Qui si sta parlando di popolazione italiana, quindi di individui, e qui hanno utilizzato questa rappresentazione così artistica per identificare con grandezze crescenti, perché le grandezze sono relative proprio ai numeri. Quindi, ad esempio, se vediamo 2001 e 2011 sono relativamente vicini come numero, quindi le dimensioni sono simili, ma qui abbiamo 28.952, che poi è rappresentato in migliaia, quindi sono 28 milioni, quasi 29 milioni. Questo numero rappresenta circa il doppio, un po' meno del doppio, questo un po' più del doppio, e le dimensioni di questo oggetto sono circa la metà di questo e di questo, che sono in realtà molto simili tra di loro. Bene ragazzi, spero che questo video vi abbia fatto chiarezza sui vari tipi di grafici che possiamo utilizzare per rappresentare i dati. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete l'esistenza del canale. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao!